Oggi inizia la discussione circa il bilancio di previsione della Regione Abruzzo. Io ho presentato un emendamento insieme a tanti altri colleghi della minoranza per concedere un indennizzo ai lavoratori e alle lavoratrici delle case di riposo. In questi anni di pandemia, come i loro colleghi della sanità, hanno messo in campo tanta dedizione, tanto impegno, tanta professionalità, quindi è giusto, come è successo anche per i lavoratori della sanità, di concedere dei contributi, degli indennizi ai tanti lavoratori, e sono centinaia che in questi mesi, in questi anni, hanno lavorato a fianco ai nostri nonni. Io mi auguro che la Regione Abruzzo nel suo complesso e quindi la maggioranza possa accogliere e raccogliere questo emendamento affinché nelle prossime settimane possiamo concedere un contributo, un indennizzo particolare per l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori delle nostre case di riposo.